Ben tornati con le consigliate previsioni a cura di Meteo One. L'Italia si trova ai margini di un campo di alta pressione che ha posizionato i suoi massimi sull'Europa centro-settentrionale, mentre sulla nostra penisola si ritroverà essenzialmente spaccata in due con l'alta pressione che riuscirà a inglobare il centro-nord, mentre come possiamo vedere dalla grafica il centro-sud adriatico ancora sarà interessato da deboli infiltrazioni fredde da est. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 26 gennaio. Giornata con cielo da molto nuvoloso a nuvoloso, con locali sprazzi di serino ma senza fenomeni di rilievo, se non qualche piovasco più probabile sui settori interni della Puglia e Basilicata centrale. Locali nebbie potranno esserci al mattino nelle valli interne. In Basilicata invece, giornata con cielo nuvoloso, con locali schiarite ma senza precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, come possiamo vedere dalla grafica, saranno in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi. I venti risulteranno da maestrale, mentre i mari da mossi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà per questa meravigliosa foto dalle spiagge del Salento, che ci mostrano le montagne albanesi completamente innevate. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e TeleApple, oppure le email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!